Un derby un po' declassato per l'attuale posizione in classifica di Milan e Inter, ma non per questo meno sentito. Anzi, proprio le strette marcature imposte alle punte dai rispettivi avversari hanno reso molto più difficile il compito dei centrocampisti, costretti sovente a manovrare a lungo la palla in attesa che qualche compagno riuscisse a smarcarsi. In questo settore però alcuni elementi un po' fuori condizione hanno commesso diversi sbagli, ragion per cui non si può dire che questo 162esimo sia stato un bel derby, anche se ha riservato ugualmente più di una emozione. In apertura di ripresa erano i nerazzurri a far registrare una certa supremazia. Ancora Cudicini, sebbene coperto, riusciva a parare in due tempi una conclusione lunga di Mazzola e poco dopo era graziato da Corso che metteva sopra la traversa riprendendo al volo un lancio di Mazzola. A questo punto sembrava che l'Inter avesse la partita in mano, ma a rompere le uova nel paniere nerazzurro veniva il gol di Benetti. Sul tiro del centrocampista rossonero Vieri tentava la presa aerea, ma la palla gli sfuggiva dalle mani rotolando in rete. Comprensibile il gesto di Stizza dello stesso Vieri per questo errore. Infine il gol del pareggio firmato da Boninsegna su lancio di Corso. Di questo gol si parlerà forse a lungo, poiché rimane incomprensibile l'atteggiamento di Cudicini, avventuratosi in uscita nonostante la presenza di due suoi compagni nei pressi di Boninsegna. E pensare che sino a quel momento Cudicini era stato il migliore della sua squadra e forse il migliore in campo.